La zona arte in artissima ha il quarto anno di attività nell'ambito di mise in mostre, l'ambito istituzionale in cui i musei si presentano attraverso le loro opere. La zona arte è nata quattro anni fa, proprio come network, che riunisce i dipartimenti di educazione delle istituzioni che ci sono rappresentate, parte delle istituzioni qui rappresentate. L'intento è proprio quello di portare all'interno della fiera uno spazio aperto, uno spazio di esperienze, uno spazio di riflessione, uno spazio di confronto, laddove appunto gli oggetti d'arte qui sono presi in considerazione come merce, quindi come valore economico. Noi vogliamo che zona arte sia invece uno spazio dove si riflette su tutti gli altri valori, valori culturali, valori sociali, valori relazionali e dove si vivono delle esperienze. Le esperienze sono le più varie e quindi un ricchissimo programma di talk, di laboratori e performance, come quella che andremo a realizzare tra breve, una performance coordinata da Sara Conforti che mette insieme pratiche artigianali, danza, musica, musica intesa proprio come sintesi di suoni, anche perché è un concerto per macchine da cucire, quindi è molto interessante e abbiamo voluto proprio che fosse un momento corale e anche la dimensione del cerchio degli abiti sta proprio a significare questa volontà di chiudere il momento conclusivo, concludere ma nello stesso tempo anche compiere il programma di quest'anno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.